Buongiorno! Bene, questa mattina vi propongo dei tonnarelli casce e pepe, un piatto tipico della cucina romana, ma saporitissimo, ma semplice semplice, ma bisogna saperlo fare. Bene, allora, l'acqua bolle, acqua salata a bolle, abbiamo qua i nostri tonnarelli fatti con la chitarra, mettiamo in una ciotola, eccola qua, il pecorino, aggiungiamo un pochino di pepe, il pescoliamo, qua, il pecorino, eccoci qui, cuocere la nostra pasta, sempre il nostro attrezzino per scolarla, benissimo, mettiamo in cottura la pasta, ok, e prendiamo un pochino di acqua della pasta, ciao Tony, e la mettiamo nel nostro pecorino pepe, facciamo in questo modo, deve venire una crevina, ok, considerate che poi anche l'acqua acqua, la nostra crevina è pronta, perfetto, eccola qua, ok, aspettiamo un paio di minuti, ho accorto un pochino di più perché non la mantechiamo, quindi la giriamo direttamente dentro il nostro condimento, per cui la cottura rispetto alla mantecatura è un pochino, leggermente più lunga, perché se non ci piace tutto bene alla gente, ecco qua, perfetti, possiamo scolare, mettiamo nel nostro condimento, ok, e giriamo la nostra pasta, come vedete, è un procedimento molto 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 semplice, ecco qua, i nostri tonneretti cacio e pepe sono pronti, avete visto, ci è voluto molto poco, ecco qua, la nostra pasta è pronta, abbiamo un pochino di acquetta, un po' di pecorino, ecco qua, benissimo, e sono pronti, possiamo piattere, fendiamo il nostro piatto, un pochino, Eccola qua, benissimo, e poi chiudiamo il piatto di oggi, ciao Teresa, grazie, sei gentilissima. Tagliamo, prepariamo il nostro nido, eccolo qua, ecco qui, benissimo, mettiamo la nostra cremina, un pochino di pepe, grazie, ecco qua, ecco il nostro piatto, l'abbiamo fatto proprio veloce e veloce, un pudino di pepe, ecco qui, e la nostra cialdina, ecco fatto, piatto veloce e gustoso. Un bacio e un abbraccio e dopo, tra un po' ci vediamo con un'altra ricetta, faremo dei londarelli con i broccoletti selvatici, belli belli saporiti. A fra poco, e grazie di tutto, di nuovo buona giornata.